Per quanto riguarda il mio insediamento è stato un insediamento felice, ho trovato quindi tutte persone molto accoglienti, un'amministrazione in particolare il sindaco, una persona per bene preparata che ha intenzione, infatti si vede dalla programmazione del fabbisogno triennale, ha intenzione di potenziare e di quindi ristrutturare il comando di polizia municipale, non a caso io sarò presidente prossimamente della commissione per quanto riguarda il concorso di strutture di vigilanza di categoria C, quindi a breve sala Consilina in pochi mesi avrà altre tre vigili, altre forze nuove, altre leve per riuscire ad improntare una gestione del comando improntato sulla legalità e sul contrasto di tutti quei fenomeni, di tutti quegli illiciti amministrativi, di tutta quella tipologia di reato interfacciandomi con le altre forze dell'ordine qui presenti quali Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Per quanto riguarda le nostre attività saranno improntate anche ad un ripristino della legalità per quanto attiene all'educazione civile stradale, un ripristino delle regole, anche se devo dire che ho trovato una comunità comunque molto attenta, una mia prerogativa è sicuramente quello di sensibilizzare già a partire dalla minore età, quindi dai ragazzini delle scuole medie che si appropinguano a iniziare ad interfacciarsi con il codice della strada, quindi con le patenti minori per i ciclomotori e quindi a dare un maggior senso civico soprattutto per quanto riguarda l'uso del casco, il rispetto delle norme, sicuramente questa sarà una mia prerogativa e nell'anno che verrà partiremo con qualche progetto nelle scuole. Come le dicevo prima, la carenza principale che però il sindaco giustamente ha iniziato questa programmazione è quella del personale, dovuto anche al fatto della quota 100, un po' le persone sono andate in pensione, però ci sarà breve questo ricambio prevedendo anche dei vigili stagionali di sei mesi, quindi da primo novembre avremo per sei mesi un nuovo agente già di Polizia Municipale, quindi subito pronto. Ringrazio tutti i cittadini di Sala Consilina che mi hanno accolto con molto affetto, mi hanno dimostrato il loro calore, come raccomandazioni di essere sempre prudenti alla guida e cercare di essere comprensivi anche nei confronti degli altri utenti della strada, conducenti, pedoni e quindi di osservare sempre le norme del codice della strada, noi siamo sempre a loro disposizione.